Un certo numero di foto scattate a distanza registrate dell'incontro di Loredana Leciso con un uomo sconosciuto trovato, chi è quello strano uomo? Se l'amore tra Albano e Loredana Leciso può essere continuato o no. Archiviata la storia d'amore con Albano Garrisi, Loredana Leciso è stata paparazzata dai fotografi del magazine Oggi in compagnia di suoi due amici. L'ex subretta è stata immortalata mentre scendeva dall'aereo privato di Silvio Berlusconi. Dopo di lei è scesa Francesca Pascale e successivamente l'ex premier, con in braccio il suo cagnolino Dudò. Loredana Leciso in vacanza, Albano e Romina pronti per il nuovo concerto. Tra Loredana Leciso e Albano Garrisi è proprio finita e l'ex showgirl Salentina ha deciso di passare le vacanze estive in Sardegna, a Villa Certosa di Berlusconi. Mentre il cantautore e l'ex moglie Romina Power sono pronti per realizzare un nuovo concerto in Italia. La storica coppia, infatti, il prossimo 7 luglio si esibirà a Genova in occasione del settantesimo anniversario di Costa Crociere. La partenza di Loredana Leciso significava qualcosa per Albano e Romina Power erano ex coniugi. Loredana Leciso vola in Sardegna con Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Oltre a Loredana Leciso, l'ex premier, Francesca Pascale, nella Villa Sarda sono arrivati anche il cantautore napoletano Mariano Apicella e una decina amici e amiche. Ovviamente il loro atterraggio all'aeroporto di Olbia non poteva passare inosservato. A quanto pare, l'ex compagna di Albano Carrisi ha stretto una forte amicizia con Berlusconi e la giovane fidanzata. Una legame che ha sempre condiviso sempre con grande discrezione e che è stato portato alla luce solo l'anno scorso in occasione del matrimonio di Marianna Pascale, la sorella di Francesca. Prima dello spettacolo quando Albano ha incontrato Romina, Loredana Leciso ha viaggiato e incontrato altri. Pensi che questo sia un atto di Loredana a cui Albano deve prestare attenzione, mentre Loredana Leciso può rimanere e guardare la performance di Albano ma ciò non è accaduto?